Sigla E da qualche giorno, esattamente saranno un tre giorni da quando sto registrando questo video, è stata pubblicata finalmente la lista definitiva di quelli che saranno i partecipanti per questo Eurovision 2022. Quindi adesso noi scandaglieremo quella che è questa lista e in base a questa lista poi voi magari nei commenti mi scrivete quali sono le vostre preferenze, io la mia magari ve la dico alla fine del video. Prima di partire però vi invito a lasciare un like, condividerlo con gli amici se volete insomma scambiare quattro chiacchiere proprio in merito a quelli che saranno i partecipanti di quest'anno e se vi va anche seguire il canale. Allora a questo punto partiamo subito e da chi possiamo partire se non dal nostro duo? Mahmood, Blanco, Brividi, la canzone che ha vinto Sanremo e che si presenterà in una veste del tutto inedita all'Eurovision Song Contest perché dovrà essere ridotta a tre minuti e questo è un regolamento scritto da anni quindi non c'entrano nulla né Mahmood né Blanco dovranno rivisitare un po' il testo della canzone e tra l'altro scherzando Mahmood ha anche detto che si potrebbero tagliare completamente le parti di Blanco. Insomma battute a parte capiremo quali saranno le parti tagliate di questa canzone. Io la immagino con difficoltà perché tutta la canzone ha un senso e lineare dall'inizio alla fine e di conseguenza insomma viene veramente complicato riuscire a capire quali saranno le parti tagliate e quali invece verranno mantenute. Questo per quanto riguarda l'Italia che tra l'altro per i bookmakers è favorita anche quest'anno dopo la vittoria dei Maneskin dell'anno scorso quindi chissà che magari non potrebbe esserci una doppietta. Non è una cosa inusuale vedere dei paesi che vincono per due anche tre edizioni consecutive quindi chi lo sa magari Mahmood e Blanco riusciranno a portare di nuovo in Italia l'Eurovision nel 2023. Passando ad un paese che non fa parte dell'Unione Europea per come la intendiamo noi ma che in realtà è europeissimo parliamo dell'Inghilterra, della Gran Bretagna perché negli ultimi giorni è stato confermato che a partecipare all'Eurovision Song Contest 2022 per la Gran Bretagna sarà uno di quegli artisti che se girate, scandagliate sui social trovate con molta facilità perché lui pubblica sempre dei pezzettini di canzoni che lui rivisita a suo modo con una voce estremamente potente una delle voci più potenti che ci sono almeno in questa generazione. Lui si chiama Sam Ryder e porterà sul palco dell'Eurovision il suo brano Spaceman che in realtà è stato pubblicato già un paio di mesi fa, non è un brano del tutto nuovo. Lui lo porta dopo essere stato selezionato direttamente dalla commissione interna della Gran Bretagna e credo che lui sia uno di quelli che daranno più filo da torcere per la vittoria finale magari dell'Italia magari di altri paesi però ecco Sam Ryder rientra perfettamente in quella categoria di artisti che potrebbero vincere l'Eurovision Song Contest 2022. Restando vicini all'Italia, parlando sempre di paesi che ci vedono in qualche modo coinvolti beh lo sappiamo, è stato uno degli argomenti delle scorse settimane cioè quello della partecipazione di Achille Lauro al festival Trova la Voce di San Marino anzi per l'esattezza si chiama Una Voce per San Marino tra l'altro spesso e volentieri è capitato che San Marino non abbia fatto dei favori all'Italia e queste sono cose che tra paesi magari succedono guardate i paesi baltici, i paesi baltici tra di loro si supportano danno a vicenda il massimo dei punteggi invece Italia e San Marino questa cosa la fanno raramente perlomeno Italia con San Marino lo fa, San Marino con l'Italia spesso e volentieri invece no forse quest'anno però si ribaltano completamente le carte perché per San Marino gareggia proprio Achille Lauro che ha vinto Una Voce per San Marino e che porterà sul palco dell'Eurovision Stripper lui aveva già detto che in qualche modo avrebbe avuto nel corso della sua carriera la volontà e l'ambizione di partecipare a questo contest e quest'anno ci sta riuscendo in una veste un po' diversa ci sono state delle polemiche per certi versi perché chiaramente essendo un artista con nazionalità italiana il pubblico, soprattutto i super fan di Achille Lauro si sarebbero aspettati insomma una rinuncia nel senso non hai vinto Sanremo ok basta ci proviamo i prossimi anni invece lui a tutti i costi ha voluto partecipare anche perché quest'anno o più degli altri anni l'interesse nei confronti del nostro paese è nettamente più alto proprio perché saranno a Torino le semifinali e la finale di conseguenza Achille Lauro ha voluto fare di tutto per esserci ci è riuscito e quindi ascolteremo Stripper sul palco dell'Eurovision passiamo al prossimo paese perché dopo aver parlato di San Marino, dell'Italia e dell'Inghilterra è arrivato il momento di parlare di Malta Malta negli ultimi giorni ha ufficializzato la partecipazione di Emma Muscat Emma Muscat che qui in Italia conosciamo benissimo ha partecipato ad Amici ha anche realizzato dei singoli Niente Male in vista dell'estate e nelle scorse estati e in realtà quest'anno doveva partecipare con una canzone che è stata la canzone con cui lei si è presentata alle selezioni finali dell'Eurovision proprio per il suo paese, per Malta in realtà poi ha deciso di cambiare quel brano e ha deciso di ufficializzare contestualmente anche I am what I am in pratica gli utenti che hanno votato per Emma Muscat nel corso della finale del contest di Malta si sono un po' lamentati perché hanno detto ma come? tu sali sul palco per presentare una canzone ti facciamo vincere con quella canzone e poi tu, i tuoi manager e la tua casa discografica scegliete di cambiare le carte in tavola e quindi di conseguenza questa domanda se la sono fatta tantissimi fan che non hanno gradito questa scelta operata da Emma Muscat o dalle persone che gestiscono in qualche modo Emma Muscat andando avanti con i paesi troviamo l'Austria l'Austria che a febbraio ha ufficializzato la presenza di un artista che qui in Italia è molto ben visto soprattutto nell'ambito della musica dance perché lui è grande grande amico di Gabri Ponte di Prezioso, di tutta una serie di DJ nostrani con grande successo anche all'estero lui è Lumix Lumix ha deciso di presentarsi per le selezioni austriache e da quel momento l'Austria ha deciso di portarlo sul palco dell'Eurovision ma non sarà da solo sarà insieme ad un artista che soprattutto nelle ultime settimane ha pubblicato singoli a rotazione si tratta di Pia Maria e segnatevi questo nome perché ne sentiremo parlare la canzone sarà cantata in inglese e si chiamerà Halo altro paese amico dell'Italia e in passato lo ha dimostrato proprio all'Eurovision con i punteggi assegnati alla fine è l'Albania l'Albania ha deciso di presentare un'artista neofita di questa competizione si tratta di Ronela Hayati che presenta la canzone Secret almeno io la pronuncio all'inglese ma in realtà non sappiamo se la pronuncia sia quella perché non siamo albanesi quindi non possiamo saperlo ci affidiamo insomma alla buona sorte e la particolarità di questo brano è che così come per Mamoud e Blanco sarà modificato però la modifica sarà fatta anche all'interno del testo quindi non ci saranno semplicemente dei tagli ma ci saranno proprio delle aggiunzioni dal punto di vista linguistico perché la canzone sarà cantata in inglese un misto anche con l'albanese ma ci saranno delle aggiunzioni anche in spagnolo quindi questo sarà un esperimento un po' per Ronela che porterà sul palco dell'Eurovision una canzone cantata con ben tre lingue cambiamo parte del mondo ma rimaniamo sempre all'interno dell'Eurovision Song Contest questo è il caso più particolare di questa manifestazione ma non soltanto quest'anno in realtà è già da anni che succede questa cosa cioè la partecipazione dell'Australia l'Australia che inizialmente era invitata come ospite come paese ospite all'interno della manifestazione ma che in caso di vittoria e questo è un dato molto importante si impegnerà a organizzare l'edizione dell'Eurovision in uno degli stati dell'Unione Europea chiaramente però aiutato da quello che sarà uno dei partecipanti e non si è però capito se il partecipante lo stato partecipante sarà il secondo classificato o seppure si farà affidamento a quello che è stato l'ultimo paese organizzatore quindi tecnicamente potrebbe essere di nuovo l'Italia nel 2023 nel caso in cui l'Australia dovesse vincere però è veramente difficile una cosa del genere perché l'Australia in quanto paese esterno e comunque sempre visto un po' come ospite non pagante ecco è raro che gli altri paesi decidano di dare punteggio almeno questa cosa non è mai successa quindi staremo a vedere che cosa succederà il cantante in gara per l'Australia si chiama Sheldon Rayleigh è del 1999 quindi anche lui uno dei più giovani di quest'anno e la canzone cantata in inglese si chiama Not The Same passiamo ad un paese che non è neanche considerabile come outsider ha veramente pochissime chance di vincere però è sempre una gara quindi potrebbe succedere l'imprevedibile parliamo dell'Armenia l'Armenia che porta in gara Rosalyn la particolarità è che ad oggi non si sa il nome della canzone però sappiamo che lei si chiama Rosalyn e questo già è un dato che ci può aiutare anche per cercare delle informazioni su internet altro paese un po' come l'Armenia considerabile come quelli tra i non vittoriosi quasi al 100% ma ci lasciamo sempre uno spiraio quindi diciamo 99,9% è l'Azerbaijan così come per l'Armenia anche in questo caso sappiamo il nome dell'artista non sappiamo il nome della canzone l'artista si chiama Nadil Rustamli e quindi staremo a vedere che cosa succederà per l'Azerbaijan è il momento del Belgio Belgio che decide di presentare Jeremy McKeezy anche lui giovanissimo con una canzone che si chiama Missio in realtà abbiamo pochissime informazioni anche su questo artista però insomma il Belgio è sempre uno di quei paesi che fa la sua bella figura sul palco quindi capiremo che cosa succederà quest'anno anche per questo paese sicuramente da tenere sott'occhio ma non per la vittoria più che altro per lo spettacolo sarà il gruppo che parteciperà per la Bulgaria infatti per la Bulgaria partecipano gli Intelligent Music Project ed è molto particolare questa band perché in realtà si tratta di un super gruppo così come è successo in passato per altre famosissime, famosissime band formate da vari musicisti presi da altri gruppi, da altri componenti ma anche in caso di artisti singoli che hanno deciso di accompagnare alcuni amici ecco si è formata questa super band che ha deciso per l'appunto di chiamarsi Intelligent Music Project in realtà esiste già dal 2012 quindi hanno anche della carriera molto molto importanti alle spalle e Ronnie Romero che è un po' il frontman di questo super gruppo ha deciso di candidare appunto gli Intelligent Music Project per la Bulgaria e quindi parteciperà per il paese bulgaro all'Eurovision Song Contest 2022 curioso anche il caso di Cipro un po' come è accaduto per San Marino perché per partecipare serviva una selezione interna e internamente è stato scelto il nome di una cantante nata in Germania ma con nazionalità greca quindi che non c'entra assolutamente nulla con Cipro si chiama Andromach o Andromachie non si sa qual è la pronuncia la canzone si chiama Ela quindi anche in questo caso c'è un artista che partecipa per un paese diverso da quello che è il suo di origine Croazia Mia Dimzic è questo il nome della cantante che porta sul palco una canzone che secondo me risveglierà un po' gli animi soprattutto quelli sensuali e sessuali dell'Eurovision Song Contest infatti la canzone si chiama Guilty Pleasure e già dal titolo si capisce che sarà davvero uno spettacolo adesso passiamo a una band completamente al femminile si chiamano Reddy loro sono le Reddy e partecipano per la Danimarca come sapete negli anni scorsi la Svezia soprattutto è stata grande protagonista dell'Eurovision hanno vinto tantissime volte con i loro artisti mi ricordo soprattutto Manz Zemmerlo che tra l'altro ha avuto grande successo perché la canzone con cui ha vinto l'Eurovision è stata anche presente all'interno di alcuni spot qui nel nostro paese e non soltanto nel nostro paese in tutta l'Unione Europea quindi di conseguenza c'è da tenere d'occhio non soltanto la Svezia ma anche la Danimarca la Finlandia sono paesi che ci tengono molto a questa manifestazione le Reddy per l'appunto parteciperanno all'Eurovision 2022 con la canzone The Show quindi staremo a vedere che cosa accadrà anche per loro e a proposito di paesi nordici ce n'è uno che cito con con un coccolone quasi perché torna torna sulle grandi scene internazionali una band che agli inizi degli anni 2000 ci ha fatto sognare ci ha fatto vivere grandissime emozioni soprattutto con una canzone perché poi quella hanno fatto almeno quella è arrivata in Italia con grande successo la canzone ai tempi si chiamava In The Shadows vi ricordate? beh come dimenticare i The Erasmus che hanno fatto parte della storia della musica emo rock e che adesso tornano dopo tanto tanto tempo con la nuova Jezebel e parteciperanno per la Finlandia quindi anche questo un graditissimo ritorno sui palchi internazionali e staremo a vedere che cosa succederà su quello dell'Eurovision perché poi la canzone è una classica canzone in stile di Erasmus quindi staremo a vedere che cosa riusciranno a combinare velocemente citazione anche per l'Estonia che porta sul palco Stefan con la canzone Hope c'è anche in questo caso veramente poco da dire l'unica cosa è che chiaramente così come ho detto anche per altri paesi dell'est Europa ci sarà modo di capire dal punto di vista del punteggio che cosa decideranno di fare anche perché quest'anno più degli altri anni la situazione di quei paesi diventa veramente particolare da capire perché la Russia è stata squalificata chiaramente per tutto quello che è successo di conseguenza i punti della Russia che solitamente arrivavano proprio da questi paesi tra virgolette amici non andranno più alla grande potente Russia che ogni anno arriva almeno sul podio o comunque ai piedi del podio quindi chi voterà l'Estonia per chi voterà l'Estonia è arrivato il momento di parlare del paese che ci ha dato maggior filo da torcere l'anno scorso e che quest'anno si candida per un posto tra le prime 5-6 canzoni è la Francia sul palco saliranno e spero di pronunciarlo bene Halban e Hez Hez insomma ragazzi sono francesi comunque di conseguenza perdonate per la pronuncia la canzone si chiamerà Fulaine quindi anche per loro ci sarà la possibilità di far sentire la loro voce sperando che rispetto all'anno scorso non causino grandi grattacapi però la Francia è uno di quei paesi che spesso e volentieri ha votato bene per l'Italia quindi magari anche quest'anno succederà la stessa cosa e noi di conseguenza magari decideremo di aiutarli alla stessa maniera anche se insomma la rivalità c'è sempre e quindi incrociamo le dita e speriamo che in qualche modo la Francia non ci dia grandi grandi problemi altro paese rivale in termini insomma di risultati sportivi musicali quel che vogliamo è la Germania la Germania che quest'anno presenta Malik Harris grande esperienza in Germania proprio nel suo paese natale e la canzone si chiamerà Rockstars Georgia uno di quei paesi che come per Armenia per Azerbaijan e per pochi altri non dà grossissimi grattacapi all'interno dell'Eurovision in termini di problemi e di risultati Georgia che parteciperà con Circus Mircus staremo a vedere che cosa succederà anche per la Georgia Die Together invece è il nome della canzone che presenterà Amanda Teneford per la Grecia altro paese che alcuni anni ha fatto bene altri anni ha fatto male vedremo quest'anno Irlanda Irlanda che solitamente si allea con l'Inghilterra e io ci tengo sempre a sottolineare di stare attentissimi a Sam Rider per l'Inghilterra l'Irlanda porta quest'anno Brooke con una canzone che anche in questo caso rispetto all'originale sarà modificata il titolo è That's Rich eh ragazzi adesso arriva la parte difficile mi sa che questa la devo leggere parliamo dell'Islanda quindi già vi do l'idea gli artisti sono Sigga Beta Elin e la canzone io non ho la minima idea di come pronunciarla spero spero di dirlo bene amici islandesi che guarderete questo video perdonatemi Med Ekand Ekandisol spero sia così adesso dobbiamo aprire la parentesi Norvegia perché la Norvegia sì che darà dei galattacapi scopriremo in che termini e in che modo i subwolfer si chiamano così hanno deciso di partecipare all'Eurovision Song Contest 2022 con la canzone Give That Wolf a Banana e ragazzi questa è una canzone molto molto forte più che altro perché è una di quelle canzoni che ti entrano in testa è una di quelle canzoni che ascolti e riascolti con piacere balli ti diverti guardi loro non puoi fare a meno di adocchiarli sempre sempre di più non riesci a staccargli gli occhi di dosso quindi attenzione ai subwolfer è importante parlare del portogallo perché a quanto pare la canzone Saudagi Saudagi sarà una di quelle che darà grosso filo da torcere un po' a tutti i partecipanti a tutti gli strafavoriti di questa edizione a cantarla sarà Maro ed è una di quelle canzoni che anche guardando le visualizzazioni e gli ascolti in streaming è una di quelle che viene ascoltata e vista maggiormente dagli utenti quindi insomma attenzione anche a Maro e devo dire che quest'anno rispetto agli anni scorsi c'è stata molta più attenzione nei confronti dell'Eurovision 2022 forse perché è in Italia e l'Italia è un paese dove si vuole sempre fare bene forse perché proprio l'Eurovision di anno in anno soprattutto dopo la vittoria dei Maneskin dell'anno scorso ha guadagnato una certa autorevolezza e si è capito che partecipare e soprattutto vincere può davvero svoltare la vita può far svoltare la carriera a chiunque riesca a vincere quindi non è da sottovalutare come vi dicevo prima bisogna stare attenti ai paesi del nord in questo caso la Svezia che è uno dei paesi che ha ottenuto maggiori vittorie nel corso degli ultimi anni soprattutto nell'ultimo decennio presenta sul palco la canzone Hold Me Closer e sarà cantata da Cornelia Jacobs speriamo insomma che non si dimostri essere un nuovo talento della musica svedese pronto a rubare la scena a tutti speriamo speriamo davvero bene l'ho tenuto per ultimo come paese perché ci tenevo che fosse in qualche modo slegato da tutti gli altri e che approfondiste anche la storia legata alla partecipazione dell'Eurovision 2022 dell'Ucraina l'Ucraina che si presenta con una band si chiamano Kalush oppure Kalush Orchestra e a quanto pare almeno da quello che dicono i bookmakers è diventato uno dei paesi favoriti forse il paese favorito per come la vedo io l'Ucraina dovrebbe avere almeno un premio che va al di là di quello del premio finale dell'Eurovision proprio un premio perché è riuscita nonostante tutto a portare avanti i preparativi per partecipare quest'anno all'Eurovision tra l'altro la partecipazione dei Kalush è arrivata in maniera anche abbastanza stravagante perché loro sono entrati in corsa non erano loro che dovevano essere sul palco di Torino doveva essere un'altra artista Alina Pass infatti doveva partecipare per l'Ucraina Alina Pass che poi ha deciso intorno alla metà di febbraio di ritirare la sua candidatura e quindi subito dopo sono arrivati i Kalush con una canzone che si chiamerà Stefania e come detto insomma l'Ucraina è il paese strafavorito per vincere questa edizione e vorrei ben vedere insomma ci starebbe ci starebbe una vittoria dell'Ucraina soprattutto dopo quello che sta succedendo ma anche se non dovesse arrivare come detto il mio augurio il mio auspicio è che venga dato un premio speciale un premio speciale per tutto quello che nonostante i problemi nonostante le difficoltà l'Ucraina è riuscita e sta continuando a fare in vista non soltanto di Eurovision ma in vista di tutti gli impegni che possono essere sportivi musicali artistici a 360 gradi quindi ci sta anche potere dare un premio una menzione speciale un qualcosa all'Ucraina che come detto quest'anno si presenterà sul palco dell'Eurovision con i Kalush e la canzone Stefania ragazzi li abbiamo detti tutti sono veramente tanti io non vedo l'ora che arrivi la serata di metà maggio per poter vedere la finale dell'Eurovision Song Contest e scopriremo da italiani insomma se Mahmood e Blanco effettivamente saranno capaci di rispettare le aspettative anche se in realtà dipende poco da loro e dipende poco dall'Italia stessa perché le votazioni come sapete non possono essere fatte per il paese stesso quindi l'Italia non può votare per l'Italia devono essere gli altri a votare per noi quello che possiamo dire che sicuramente i paesi europei hanno apprezzato brividi tant'è che prima dei Kalush dell'Ucraina insomma il duo composto da Mahmood e Blanco era dato per strafavorito poi sono arrivati Kalush poi è arrivato Sam Ryder altro mega favorito e quindi potrebbe anche rivelarsi una lotta a tre finale con in questo momento l'Ucraina leggermente favorita per tutti i discorsi extra musicali che sappiamo però insomma mai dire mai magari lo spirito della manifestazione andrà al di là di tutto al di là delle scelte politiche e non si premierà alla vera bellezza della canzone ma come ho detto anche prima se dovesse vincere l'Ucraina non sarebbe con nulla di così tanto sbagliato ragazzi i paesi sono questi li abbiamo detti tutti e a questo punto non mi resta altro da fare che salutarvi e ringraziarvi per essere stati qui in mia compagnia iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei contenuti legati al mondo della musica soprattutto quella nazionale ma quando ci sono eventi come questo dell'Eurovision ne parliamo in maniera approfondita quindi iscrivetevi attivate la campanella per non perdere neanche un contenuto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video che tornerà ad essere un video on e off stage che ci sono dei concerti ragazzi io vorrei potervi dire qualcosa ma in realtà non posso non vi resta altro da fare che seguirmi grazie mille lasciate un like condividete questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao